So che questa può sembrare una fase, un aforisma di Caramagna, ma invece un principio che ci dimentichiamo troppo spesso. Perché quando tu smetti di essere curioso, smetti di farti delle domande, e allora pensi di conoscere già la verità, e parti subito con i tuoi giudizi, pensando così di avere sempre ragione, e proprio lì iniziano i casini. So di non sapere, diceva Socrate, e mica uno qualunque.